Ci chiediamo se Il prezzo del gas Possa essere scambiato con la pace Ecco questo è quello che vogliamo Vogliamo che Di fronte a queste due cose Cosa preferiamo? La pace oppure star tranquilli Con il termosifone acceso Anzi ormai l'aria condizionata Ancesa tutta l'estate Ancesa tutta l'estate Ancesa tutta l'estate